La cosa divertente è che un artista mondiale Trend Comunque La scoreggia Era la moto La scoreggia Però posso dirti era un rumore diverso Sì si è presente Sarà stata lei stavolta Che poi guarda come è intervenuta subito dicendo Eh no però questi rumori E chi l'annuncia l'ha fatta E non è così detto ma Chi dal naso la sente e dal culo gli pende O gli pende e si scimarcheggia Quasi Trent'anni Avevamo detto Non devi miss gender areale E miss age areale Noi abbiamo sempre detto di avere 16 anni Dovete questi microfoni Scusate Io sono Alessandro E io sono Daniele E questo Questo è POV Il podcast Ma ancora Ma io ripeto Il tuo è un rosso Relativo C'è stato il concerto recente Lo so Avevo storie Instagram Piene di gente che c'è andata Ma il telefono qui sul tavolo Non te l'ho detto Non te l'ho detto che mentre si mangia Non si usa il telefono Si sta al bar Esatto No è buffa questa cosa Che parliamo di un concerto Perché questo intanto è POV Ciao 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 a tutti Oi Oi Eccoci sempre qui Sempre smemorate E sempre con un principio Di alzheimer Allora C'è un logopedista in sala E Questa è una puntata Di Potevi non saperlo Esatto Ma come ogni bellissima puntata Di Potevi non saperlo Il nostro mantra Qual è? Quello che scriveremo un giorno Su delle magliette Ce l'ho Vai Amo Che suz Allora Suz che inizio io Ok Sì L'altra volta io Stavolta tu Capisci Mi piace Lacrime tu Chissà quando inizieremo A dimenticare l'ordine Per ora no Non è questo il giorno E È buffo Perché abbiamo parlato di concerto Di Tiziano Ferro Sì Che è venuto all'Olimpico Mi sa pochi giorni fa Non so Non ci interessa Molte sono venute all'Olimpico Durante il concerto Avevamo Instagram Esatto Anche perché poi Chissà quanti altri concerti Di Tiziano Ferro Ha fatto nel corso Dell'ultimo periodo Non è perché a Roma È il fatto Voglio parlare proprio di concerti Perché L'estate è iniziata L'abbiamo sentita Ok L'ultima puntata Le tue gote rosse Non era per un chirurgo bravo Ma era per le tue vene varicose Siamo Stiamo cercando di organizzare Anche un refrigerio Qua dentro Perché per ora Siamo come chiusi In un microonde Signori E questo Sta a voi Se la colletta Se il crowdfunding Andrà bene Avremo un refrigeratore E il sondaggio è Secondo voi Scolpirà prima il popcorn Io O il popcorn Daniele Esatto Fateci sapere Uno è al caramello salato Uno dolce Al cioccolato No beh Allora Parlamo di Voglio parlare di concerti È una news Non news Perché tu saprai Benissimo quanto me Cosa succede Però in realtà Sono successe Delle cose divertenti Barra Interessanti Riguardo ai concerti Che arriveranno in Italia Ok Intanto Voglio aprire con Una delle notizie Che a me ha fatto Proprio Sinceramente ridere Ok Sia per la coincidenza Temporale Sia per proprio Il luogo Dove si svolgerà Questo concerto Se mi mette l'angoscia Di me Vero Dai lo so Questa si chiama hype Lana del re Si esibirà Esibirà Proprio oggi Perché è domenica 2 luglio Ok Sai quando è stato annunciato Questo concerto No Martedì Ok Giuro Come prende appuntamento Con te Proprio Lampo Mi ci devi stare Praticamente Solo che Non si tratta di Alessandro Coppari A Caparico Ma di Lana del re Ok Che suonerà A Lido di Camagliore Ah ma Ma ti ricordi Quando ci andavamo A vendere borse Questi Che pagacci di studi Mamma mia Ma guarda E ci conoscemmo I tizi lì Che invece vendeva Braccialetti Ognuno vende Quello che riesce a fare Le borse E le bracciale Mi ha aperto un brand Ognuno Sta arrancio Il fatto Fa proprio ridere Il fatto che Un artista Da 11 milioni Non so quanti follower Ha in generale Lana del re Tipo tantissimi Credo ormai Cioè è una delle star Di punta Proprio del pop Quello un po' più sofisticato Ma è una star Come Bjork Eh sì No Sì sì Forse meno Meno concetto Perché Bjork Poi mi è passata Un po' Proprio arte Concetto Lei è rimasta Un po' più tranquilla Però sì È comunque Il pop Degli omosessuali Sofisticati Possiamo dirlo Esatto Quelli che comunque Il master Me l'hanno preso Bravissimo Sono pure gay Economicamente abbienti La cosa che mi fa ridere Che è un artista globale Come Lana del rei Per carità Non ci ricordiamo Tantissime hit Di Lana del rei Va benissimo Così Blue jeans 2012 Young and beautiful Sì ragazzi Ok Era il 2014 E il 2012 Siamo arrivati al 2023 Lo capite Quindi sì Ci sono delle hit Madonna ragazzi Siete come l'internet Alle volte Ci sono tante hit Summertime Sadness Ce le ricordiamo Però ultimamente Lana del rei Non è proprio Al top delle radio Voglio dire Non ascoltiamo Come sentiamo Bellissima di Annalisa Nonostante ciò Comunque Il fatto di scegliere L'idro di Camaiore A me fa ridere In Toscana Ma Daniele Ma sai cosa vuol dire Il buco Adesso Un saluto A tutti i camaioresi Esatto Che magari si offendono Però veramente È il buco del culo del mondo Cioè nel senso È proprio sperduta Questa location Chissà Chissà il produttore Il produttore Il manager Che idea ha avuto Sarà stato conveniente Infatti Ad aggravare la cosa Vuoi fare un concerto Sofisticato Perché di questo si parla L'idro di Camaiore Cioè lo fai in spiaggia Esatto Bevi il sex on the beach Va bene Ci sta Però almeno Me lo dici Un po' di anticipo Almeno io tipo Mi organizzo Per arrivare al lido di Camaiore Certo Si spera che tutti gli abitanti Non avessero grandi da fare Per quel giorno Chissà ci saranno poi De fans Che sono proprio di lì Quando un giorno Raconteranno i nipoti Ma tu ti ricordi Quando l'ana del rei Ma infatti Se infatti fosse venuto Fecero la fiera del pesce Pensa Invece di comacose A cento buchi La del rei Comunque I cento buchesi O buchini Non so No vabbè Cento buchesi È perché Alessandro Comunque Le misure sono sempre Proporzionali a noi stessi È sempre il punto di vista Spogliata Mamma mia Giocando E la cosa Insomma La cosa divertente Che oltre che L'Ido di Camaiore E anche la quantità di giorni Per anticipare Il concerto Se me lo annunci Martedì per domenica Ragazzi Non scherzo È veramente stato annunciato Martedì questo concerto Ma non ci riusciamo Di organizzare a noi Tra amici Tra persone Figurati se riesco Andare a un concerto Ma poi là Chissà quanto è distante Dalla vita Molte vite Quindi L'internet è esploso Perché hanno iniziato A volare dei meme Che fanno di un ridere Perché hanno fatto Il viaggio Di l'anel rei All'Ido di Camaiore Ed è una sfigata Qualsiasi in macchina Perché a quel punto Poi non c'è l'autista Cioè ci vai tu Con il bla bla car Esatto E tra cui La cosa principale È ok Ma l'anel rei Che ci fa il concertino A vaffanculo E noi siamo qui Ad aspettare Siamo tipo che ne so A Milano Cioè brutto Però vediamo un attimo Facciamo partire un trend Facciamo vedere Andate a vedere poi Come si chiama Airbnb O TripAdvisor Quanto aumenteranno I prezzi I prezzi Di tutto Durante quel periodo Sì 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 Domenica E poi tra l'altro È così tanto Nell'immediato Che magari Cioè non hai proprio Il tempo materiale Di alzare la cornetta Perché sei al lavoro Stai facendo un'altra cosa Oppure avevi un appuntamento Più importante Oppure avevi gli orari Di maturità O magari c'è un problema Oltretutto Capisci Perché comunque Il nana del rei È molto target Nel senso Tra l'altro Non ce la vedo Mi madre Alla l'altra Fa Kiss me before you go Bene o male L'ana del rei Penso arriva fino ai 35 anni Di target Poi iniziamo un po' Facile adesso non so Io mi sento molto In target Quindi figurati E dai quasi I miei 40 Ma tu non hai 40 anni No 16 L'hai detto Fino a me Sei riuscito a dirlo Esatto I nostri ascoltatori Capiranno che è la voce Di una donna matura questa Quindi ecco Lana nel senso Rivedi le tue priorità E la cosa divertente È che hanno iniziato A dire tutte le altre Possibili date Di l'ana del rei Ma palese Ma palese Il manager è di lì Cioè E voleva approfittare Per vedere i genitori Dai ma Ci vai in raggio Ci vai in vacanza al mare Da quando ha 15 anni Secondo me Ma quanti posti ospita La piazza Non lo so Io ho visto un po' di foto No ma una mattata totale Anche la locandina Del concerto Cioè l'ana del rei Adesso fa sempre queste foto Low profile Molto tranquille Lei molto struccata Quindi fa parte Diciamo che se Miley Cyrus Ha perso la voce Nel corso del tempo Il suo Il suo manager Attista dietro Ha perso di luminosità Il make-up artist Esatto Sempre più cube Quindi anche se vi direi La locandina E l'ana del rei Ok Ma sembra Potrebbe essere pure la tipa Che ti suona la chitarretta A fianco al E guarda dove lo fa E guarda dove fa il concerto In un posto qualunque Forse ci sta dando l'idea Della ragazza della porta accanto Ma forse è un po' troppo accanto L'ana Perché Il cazzo va È che l'ana vuole Farci capire Che vuole essere ospita A POV Perché lei fa le cose Autoprodotte Indipendente L'ana Ma a parte che non serve Che ti spendi così tanto Ci vuoi comunque contattare In DM su Instagram Esatto Come lo ripetiamo a te Lo ripetiamo a tutti i nostri Ascoltatori Comunque Magari Roma ha più giro Di Lido di Cavaglione In questo caso Che ne sai Che ne sai Butola Questa è la prima cosa Che mi ha fatto un po' ride E vediamo Io voglio sapere Tutto quello che succederà Questa sera No e soprattutto Chiediamo cazzo Chi ci va Ci siete Ci andate Uno se ci andate E due se conoscete Cantanti famosi E importanti Che sono venuti Nel corso degli anni A vostra memoria I luoghi del cazzo Nel mio paese Chato Fidardo Per gli amici Castelfidardo I dei giornalisti Prima che li conoscessero Sono venuti in un localino Che se io te lo racconto Daniele Tu non mi ci credi Io ai tempi ero Il tipo quello Io non ascolto La musica che ascoltate voi Ok E quindi I dei giornalisti Ci immagino proprio Esatto Che schifo I dei giornalisti Sì Li ascoltavo Con un po' di Di puzza sotto il naso Ai tempi Ok E chiesi al mio gruppetto Di amici di riferimento Ma ragazzi Ci sono questi qua Lo so che non sono molto famosi Però vengono Cioè Io ci potevo arrivare a piedi A sto posto Capito E tutti mi hanno detto Ma ci vai tu Oddio Oggi Guarda come li ascoltate Guarda come li ascoltate E questa non è la rivincita Di Alessandro Nei confronti Di tutto ciò che è successo In passato Non me l'ho legato al dito Per niente Da quando ti chiamavano Mozzarella Ricordiamo Mozzarellina pallidina Com'è che t'avevo chiamato L'altra volta Mozzarellina pallidina Adoro Ma invece Un'altra Il main focus Oltre la nana del rei C'è un'altra cantante Pop Mo Molto Popolare Molto popolare Molto che ha fatto qualcosa Legato a un concerto Ma ascoltami È una persona cattiva Lo è stata Ok Cioè si è mostrata cattiva Ma no adesso è buonissima La social ma i serpenti Sì Ok È Taylor Swift Sì Ah Bravo Sì 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 È la Tay Tay Taylor Swift Che è tipo Il simolo del capitalismo Praticamente Femminile però Sto scherzando Taylor Swift Ha annunciato Mamma mi aiuto Taylor Swift è in concerto Non so da Penso due mesi Tre mesi Quanto è che sta facendo La leg americana Del suo The Era's Tour Ha annunciato le date Europee Che sono state attese Io penso come Non lo so Non mi viene in mente Un paragone Ma sono state Rannate il pulito Per il momento E lei ha annunciato Ha annunciato Non so tipo Penso siano tipo Una trentina Una quarantina Tantissime date Per tutta Europa E nonostante Fossimo tutti Molto scoraggiati A riguardo Verrà anche in Italia Ci ha dato una tappa Esatto Una sola Perché non sia mai Però una Ah indovina Milano È ovvio San Siro Il 24 Scusate Il 13 luglio 2024 Quindi possiamo Tranquillizzarci Beh posso dire Lana prendi esempio Esatto Mai una via de mezzo Posso dire Chi un anno Chi cinque giorni Ma beh Che succede Mi ha annunciato questa data Che è appunto San Sino Milano 13 luglio E ovviamente Il mondo è esploso Perché le tappe Sono tantissime La richiesta è altissima E sanno già tutti Che i biglietti Non saranno mai Almeno paragonabili Alla domanda Non ti dico uguali Ma almeno E questo ha fatto schizzi ai prezzi Ancora non si sanno Perché è tutto A data da destinarsi Il 5 luglio Sapremo qualcosa in più Ok 2023 Sapremo un po' più di dettagli Ma sarà impossibile Andare a sto concerto Parliamone E la notizia è legata proprio Mi sono iscritto Alla cosa per il pre-sale Ovviamente Ma non so quanti altri Si siano iscritti Ma ovviamente Ce l'aspettavamo da te Daniele Che ti devo dire Io dopo folklore Un po' Swift Amo se c'è qualcuno Entra in camera tua Oltre a capire di essere gay Pensa che stai con te lo Swift Perché ci sono solo Copertine sue di album Che tu utilizzi Poi spieghiamolo Quando sei a tavola con Alessandro E lui fa una battuta sassi Oppure vuole rispondere In un modo Per farvi capire Come lui fosse stato In quella situazione Indica un disco di Taylor Swift E c'è Taylor che sta così Vabbè anche Lordi Rosalia Cioè poi dipende Sì però Taylor è sempre stata Un po' tua Taylor è la tua Elo di da fuori Sì è vero Vero dite E sai Io onda fica Ho iniziato un po' Cioè mi è Ho iniziato ad apprezzarla Veramente musicalmente Parlando dal 2020 Quindi figurati Però prima simpatizzavo È un attento recente Eh capisci Sì Vabbè che succede Dato che sarà praticamente Impossibile andarci Internet C'era l'attesa Daniele Su Ticket One Per accedere alla pre-registrazione Adoro C'era la fila Sul sito Una roba proprio da pazzi Questo è il sogno che fai Ogni volta che speri Che un video di Pop Diventi virale Che ti rispiede La mattina che fai Why are you so obsessed with me E che succede E si è iniziato a parlare No ragazzi Non ce la faremo mai Cioè si parla di estrazione È una cosa molto particolare Anche solo il poter partecipare Al concerto Ok In questa situazione Mattia Stanga Conosci? Sì certo Non mi è capitato spesso Perché le persone attorno a me Non lo conoscono Perché sono anziane Spiega chi è Mattia Stanga Mattia Stanga È uno dei Penso tra i primi TikToker italiani A diventare famosi Proprio a livello di tempo E ad oggi È tipo Straseguito Non solo su TikTok Anche su Instagram Insomma è un influencer Che continuo di volta In comedy Esatto Lui fa Praticamente imitazione Di situazioni X Dalla farmacia Alla scuola Per dirvi Ok Bravo Mi fa pisciare da rire Della farmacia Mattia Stanga Fa un tweet Tranquillissimo Perché alla fine Tutti possiamo fare un tweet Giusto E lui scrive Io Taylor in Italia Sinceramente non voglio perdermela Dove si comprano i biglietti Sono quelle cose che Anche se non sei più Il suo più grande fan Devi vederla Perché cazzarola È lei E come Daghi torto Daniele Tu dici Cazzo Che è successo Il delirio Del tipo I swifty I fan di Taylor Swift Sono incazzati Si sono incazzati neri Le swifty Soprattutto Perché hanno iniziato a dire No Non ci piace Siccome lui è un influencer Quindi L'idea è Non divulgare Queste cose Perché dato che Tu hai grande seguito Invogli la gente A venire a un concerto Per cui è già Difficilissimo Partecipare Quindi lasciamo i biglietti Alle persone che veramente Si strapperebbero i capelli Per Taylor Quindi tu che Da dove sei sbucato Cioè Non sei vero fan Stai rubando il posto a noi Ma quanti soldi ha la gente Per potersi permettere Un concerto giusto Per uno sfizio Cioè Io già Oh capito Ma perdonami Daniele mi tira fuori sempre Il punto di vista Che non mi aspettavo Ho capito però Ma chi è che Che è così strano Cioè non è che dici È la pesce nuova Tornando alle tue passioni Che è Oh Luke Kinder Luke Kinder Condendo le sorpresine Di Harry Potter Che tu dici vai Non sono un fan Però me lo mangio Vero Cioè da Swifties Ma scusa Cioè c'è un esame Che devo fare All'ingresso Mi devi cantare Luke Watch Ma in me due Al contrario Capito Che dicono sia Una preghiera in Abruzzetta Dari ma veramente Cioè è andato in trend topic Sta cosa Su Twitter Perché la gente ha iniziato a dire No ma che fai Oddio Lassate Ma infatti È l'ultimo Delle persone tossiche Di internet Ma questa è veramente L'ennesima situazione Che dimostra Che al giorno d'oggi La gente Quando vuole aggrapparsi A qualcosa Perché ti vuole colpire Lo fa Ora obiettivamente Posso capire Nel senso Il discorso delle fan Che dicono Oh Matti Dammi la mano Nel senso Però Che poi lui ci andrebbe A prescindere Dai su Nel senso Chi può traghettare con sé Cioè perché i fan Ti vogliono vedere Mattia Stanga Ma tu cazzo lo vedi Sta pieno di gente Luke Oltre a Mattia Stanga Si è proprio Aperto il discorso Del non andate ai concerti Per cui non tenete troppo Se sapete che il concerto È strarichiesto E la data è unica Questo più Poi Mattia Stanga Grazie al cielo È anche stato messo In secondo piano Alla fine Ma il discorso Che io L'unica cosa Che posso dire Perché abbiamo Dato ragione a tutti All'altra parte Ma le Swifties Ci dicono Taylor non viene in Italia Da ben 13 anni E il fatto che lei Ci abbia concesso una data Per noi già è Una cosa enorme Perché l'Italia Sembrava non essere Fra le preferite Nelle destinations Magari farò una Dirò una pop brutta Però la gente che se lamenta Che dice È però così La gente che è Se ci avete disti soldi Andate anche in un'altra Tappa europea Perché non sai Quanto costano Ma chi è che Ma perdonami Sarà che Forse questo è un problema Classista Chi è che va A parte che i concerti Al giorno d'oggi Dato che prima Hai citato il fatto Che i giornalisti O anche altri Calcutta Prima Per un euro E sessanta Andavi alle palazzine E li trovavi Ora un biglietto Costa 44 euro e 50 Se ti va bene All'isodica Maiore Secondo te Taylor Swift Non viene da 13 anni qua E ha creato una dipendenza Nei confronti di tutti Ma quanto costerà Un biglietto Ma si prevede Che tipo in America I biglietti più costosi Rivenduti Perché c'è tutto il problema Del reselling Quella cosa lì Per adesso Se vuoi avere Il posto in prima fila Per un concerto Di Taylor Swift In America C'è gente che la fa pagare 10.000 dollari No dai raga Dai 10.000 dollari L'ho visto con i miei occhi Ragazzi Non scherzo Non è una cosa Di seconda mano Questo è il reselling Gente che vende E rivende Che compra e rivende Però da una parte L'artista come può Controllare i giri Anche così Dillo all'avvocati Però guarda la differenza Noi si ha un problema Testa bassa La Cizze Non c'è un problema Gli avvocati Raga posso Chi c'è Noi al massimo Il servizio clienti Non so come si scrive avvocato Io ho concluso Quindi aspettiamo Parteciperò per Pov Al concerto di Taylor Swift Lo farò ragazzi Ma lo farò anch'io Ma fa un culo Eh no Vedi adesso stai Diventa quella Che sta a rubare i posti È vero Tu Eh no Sarà una bimba Da quando Sei fan della prima ora No Non da quando Faceva Folk Esatto Il cowboy Mi taccio Per 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 Zizzi Per Zizzi Per Zizzi E' lo Zwift Per Zizzi con Zizzi in Zizzi È la controparte dei Woody in Toy Story Hai una Taylor in me Beh Woody Buzz vince Buzz Siamo d'accordo Assolutamente Ok E' per questo Che noi siamo qui Con la voce Io vi taccio Perché ho parlato fin troppo Aspettiamo notizie Da parte della Tei E anche da Lana Perché non c'è voglio dire Aspettiamo L'Ido di Camagliore Questa sera Ciao ragazzi Che sicuro la Lana Se fa lui con Gertomo Non la metto E tu Daniele Allora Cosa hai da dirmi Allora paradossalmente Quindi forse il collegamento Viene più a me Cioè l'intesa è più mia Esatto L'intesa vincente Dici Eh sì Ma partecipiamo all'intesa vincente Con POV Ci chiamiamo POV Solo se stessi dietro Che vale come suggerimento Ogni tanto Guarda ma Ma fa un culo Guarda che io sono bellissima Ve lo giuro Partecipiamo Come ci chiamiamo? Red's POV Le POVeter No Fingiamo di essere Le fan di POV Le POVeter Allora La mia notizia E paradossalmente Si collega alla tua Due di notiziette La prima riguarda la musica La seconda La music? Si una che la musica Invece dovrebbe ascoltarla Per rilassarsi Allora La mia prima notizia Che ti porto è Non so se tu sai Cosa è successo Ai concerti di Pink Nell'ultimo periodo Oh si ho visto un video Allora Io sono impazzito Ma tu Stai veramente parlando Di un concerto? Certo Ma noi siamo legati Da qualcosa Secondo me Se ci studiano Scoprono Perché siamo gay Cioè l'omosessualità Da dove arriva No io non sapevo Cioè non so se lo Non so se lo diciamo sempre Non mi ricordo Però io non sapevo Le notizie di Daniele Quindi veramente L'abbiamo scelti A scatola Sono cose scelte A scatola chiusa Questa è una delle Proche cose vere di POV Ve lo giuriamo Ve lo giuro E allora Che succede? Quindi mi sai Pink ha fatto due Qualcione Innanzitutto chi è Pink? No E poi Tandy P punto esclamativo Ink Canzone prete Who knew Pianto Io perfect Ma perché Glimia Perché sei basic Perché Glimia Sei perfect Cantata per Dai Who knew è bellissima Ma tutta la prima Vabbè Mi taccio Allora Cosa è successo a Pink? Pink ha fatto di recente Il 26 e il 27 di giugno Due concerti a Londra E diciamo che I fan di Pink O forse i londinesi Gli inglesi Cioè non lo so Forse non so Qual è il problema? Ma che cazzo Qualcuno ce l'ha la colpa Cioè nel senso Stiamo a parlare C'è un problema Il 26 è successo Che durante un concerto Una fan ha tirato Le ceneri della madre Allora sì È quello che sapevo Addosso a Pink Ok Ora uno Due domande su questo Già Riguardo a questa cosa Da quanta è morta? Chissà La madre Sarà stata felice Di essere lanciata Proprio davanti a Pink E la seconda cosa è Ale A chi vorresti Essere lanciato invece? Mi vuoi Mi vuoi essere lanciato A un tramonto Come fanno tutti Un po' Come se fosse La puntata finale Di una terza stagione Di Come si chiama I medici Doc 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 Nelle tue mani No vabbè Tu doc doc Oppure Da chi vorresti essere raggiato? Ah guarda Bella domanda Allora posso Contro di chi? Così proprio su due piedi Ti dico Basta sta cosa Del fiume Del mare Basta ragazzi No concretizza Me la dammi un chi E lo di No 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 A quel punto molto molto più in alto Punterei Ok Cioè se devo dire Però che cazzo ti dico? Eh tu lo so Dimmi tu una tua impasse Cioè da chi vorresti Non pensavo che durassi così tanto Eh non lo so Pensavo fosse una di quelle cose Che tu che mi fai le ricerche di wikipedia Arrivando al che cos'è La policisti Allora Come idea potrebbe anche essere figa Quella di essere Sai la rivolta Del pomodoro Sulle opere d'arti? Sì Togli il pomodoro Metti le mie ceneri Sarebbe fichissimo Su una gioconda Eh tipo così No gioconda no Un po' mainstream Una cosa un po' più fichetta Su una cappella? Smetti Sistina Daniel Dai 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 Poi c'è gente che mi ferma E dice Daniel ma perché Ale fa ste cose Raga sto scherzando Nessuna Oppure se devo scegliere una cantante Un cantante Una cantante Oggi ti dirai lordi Ok Wow Beh ci si augura Che essendo lordi Più grande di te Che in realtà Sia magari tu A del primi raggio Di raggiare le sue Lo so che mi vedi giovane Ma è più piccola di me Quanti anni ha 96 o 97 Non mi ricordo E vabbè Tu hai coetanea Allora Io sono 5 Amo sei 95 Basta fare l'adulta Con la gente che ha Lavorato prima di te È proprio piccola Cioè capisci Come va il destino Hai ragione Hai ragione Terribile Il 27 invece C'è stato un altro concerto Di Pink E dove questa volta Sempre a Londra Sì sì Sempre a Londra Mentre lei Stava cantando Perfect Proprio la canzone Mia Prefect Una fan Le ha passato Una forma Di 3 kg di brie Non so se la sai questa No Io sono delle ceneri Amo C'è il video Di lei che canta Perfect E questa fan Cioè Pink che si frizza E questa fan Che le Lei che ride Ricordandosi delle ceneri E quindi fa Ok Questi ormai Sono un modo superante Ma allora vale tutto E gli passa questa forma E improvvisamente Noi ci troviamo In un video girato in Ohio Per decretare La miglior oca Del quartiere Con lei che c'ha Questa forma di brie E ride È morto Però comunque Quanto quanti Molto italiana Questa roba Mettici il parmigiano Eccoci Ok è capito Io mi chiedo Ma perché Uno Ormai ai concerti in Italia Non ti fanno passare Con una bottiglia D'acqua Sono benedetto Quelli vanno con l'ubrie Vuoi sapere Secondo le ceneri Raga Cosa succede No Vuoi sapere Il trucchetto dell'acqua L'hanno iniziata a mettere Nei tubi delle Pringles Le bottigliette d'acqua Oh caspite Intelligente ragazzi Lascia fare Per i prossimi Che vanno al concerto Di Taylor L'ho sentito su pub Prendetevela con loro No ma Oltre alla forma Te ne dico una Io adesso Mi è venuta in mente Ora ora Riguardo sempre Ai concerti Cose strane Alla data italiana Di la Rosalia Che è stata tipo Questa settimana Non mi ricordo Le hanno lanciato Una moto mami La Ducati Esatto No Gli hanno Un cicchenteriachi Hanno fatto passare Da non so quale fila Tipo la ventesima Un cartellone Che ho scritto Ti abbiamo portato Perché la Rosalia Ha detto più volte Che il suo cibo preferito Sono i ciurros Ah ok Buonissimi Che le ha mangiati Un cibo tipo ispanico Giusto Eh boh di preciso Non so se Non voglio passare Che cosa sono È una Un dolce Un dolce Fritto lungo Che viene fritta Piano di zucchero Nel zucchero Che puoi intingere Nel cioccolato Buonissimo tra l'altro Vi trovate da Montadinos Bra Eh Tipici Insomma C'era questo cartellone Che ho scritto Ti abbiamo portato I ciurros da Barcellona Se non sbaglio Ed erano veramente I ciurros da Barcellona Lei ha letto il cartello Se le ha fatti passare Eh che è una stupida Che nel senso Pink ha ricevuto il bri Cioè lei alla fine Non c'entrava niente Con la situazione Ha solo ricevuto Invece la Rosalia Ha proprio chiamato I ciurros No datemi Lei ha preso il ciurros Se si è guardata intorno L'ha pure mangiato Però Esatto Però posso fatti un attimo La paesana Perché io vivendo con mi madre Nonna abruzzese doc paesana Io questi gesti Le apprezzo una cifra Perché ti faccio un esempio Quando Mi madre Il medico di base Ci trova un buco all'improvviso Mamma Le oliva la scolana Gli le porta Gli fa dottore Grazie Comunque Si comincia a lamentare I problemi che c'ha Però È usanza Molto secondo me Contadino Comunque proprio Da paese Portare un cadeau Alimentare No Quanto l'ha resa una di noi Cioè capisci Lei che ti mangia Il ciurroso sul palco Per caso che i medici Di paese Infatti sono tutti quanti Belli Belli formosi A forza del magnate L'olivetta Voi Chiamalo stupido Io fossi in lei Quando avessi La cosa libri Avrei fatto già Guarda l'ulisotto Che faccio stasera L'aperitivo pronto Per le prossime tre anni Probabilmente E ti dirò pure Un'altra cosa Gli hanno iniziato a cantare Ovviamente Italians Sempre questo fanno Sei bellissima E Rosalia capisce Quel poco Penso che lo parli anche un po' L'italiano quindi Ha sentito Fin dall'inizio Tutto Sei bellissima È una cucciola Vatti a vedere Le video reazioni di lei Al pianoforte Cioè si emoziona un po' Dal bacetto Io veramente Un'altra Se devo scegliere Un ospite di POV Direi Oltre che La Naderay Anche la Rosalia È la Stefani Germanotta Che si merita La Genzina Poi è bravissima Quindi Tante care cose La amo Cicchenteria Che E comunque Quindi questo è appunto Il fantastico mondo Dei concerti di Pink Per cui a quanto pare Vale la pena andare So raise your glass Amo O le tue ceneri O ashes Esatto E soprattutto Lazza farai causa Farai causa Lazza Riguarda Flavia Vento Non so se tu Ceneri Vento Esatto Qualcosa viene trasportato E in questo caso È lei sulla luna Perché Flavia Vento Tu sai chi è Certo Ok Modella famosissima Nell'anni 90 Che è cominciata A diventare complottista Dopo che Ha detto a tutti quanti Che era stata presa Dagli alieni Raccontando Questo suo Questa sua cattura Il cuoco del terzo tipo Esatto E da lì lei dice Che nessuno conosce La verità E che dovremmo Starci zitti Tipo come gli obiettori di coscienza Fuori gli ospedali Cioè in senso Non è che cambia molto Un'altra delle matte Del nostro panorama artistico Esatto Dopo chi si Tra chissi deramo e Flavia Vento Chi ci meritavamo Chissi deramo Arisa Allora Che è successo a Flavia Vento Dopo che è stata Appunto Ci racconta questo suo Incontro del terzo ET La cosa divertente È che Flavia Vento Ha raccontato L'anno scorso Che Lei è stata vittima Forse un'auto vittima Di phishing Perché è una certa Nel mondo globalizzato Phishing Cioè del quasi truffa Non so se lo sai Flavia Vento anni fa Raccontò Di Aver Pensato Di aver chattato Per sei mesi Con Tom Cruise Cioè Su Twitter Flavia Vento Racconta Non sono io quindi Esatto Aspetta Flavia Vento racconta Che un profilo Che poi si è Ha specificato Di essere Tom Cruise Ma con il profilo Quello privato E quindi Tu ci vedi Quando tu vuoi credere Veramente a qualcosa Cioè se a Zizi Tananai Gli dice No amo È il profilo Alberto 95 Fida di so io Zizi Gli crede Berto 95 Esatto Gli crede come La Flavia Vento È stata una noi Qualsiasi nazionale E quindi ha creduto A questo messaggio Di Tom Cruise Che le ha scritto A quanto pare Grazie per il supporto Ora Flavia Io Mi chiedo Quale supporto Tu a grande Tom Avresti Tom e Jerry Forse Non so Tom Cruise Una crociera Non lo so A chi cazzo Hanno cominciato Ad avere questa Corrispondenza Bella fitta Per parecchio tempo Ok Sei mesi Mi hai detto Sì sì Sei mesi È andata avanti Con lui Lui che la chiamava Sei la mia dea Sei il mio sole Amo io Se mi avessero chiamato Costellazione Avrei pianto Non sole No ma in che app Dove parlavano Twitter Twitter Ma messaggi privati Sì sì Penso fosse stata Una loro messaggistica Privata Nata appunto Da Twitter E poi continuata Penso sulla stessa applicazione O comunque Immaginate Questi due Che continuano a parlare Per sei mesi E La cosa che ha fatto Più ridere È che La videochiamata finale Di lui con la panza No No Sì Che non era Tom Ma era Jerry probabilmente Nel senso Era Jerry No Succede che dopo sei mesi Lui chiedere i soldi a lei E beh E lei Uno si chiede La prima cosa è Come mai Tom Cruise Mi chiede dei soldi Capito Cioè questo Fa un po' Uno degli attori Più strapagati al mondo Gli chiede dei soldi E poi perché non dà Chiedere la fine No due Mi faceva sapere Quanti soldi Aveva Flavia Vento Capito Che dice Ha proprio beccato La gallina giusta E tre Flavia Vento Dice Oltretutto io Molte volte Ho non ascoltato Una mia amica Che cercava Di farmi svegliare Cazzo Siamo anche noi Noi siamo Sia Flavia Vento Che l'amica Cioè noi potenzialmente Questa storia È un po' Il prototipo A B Di persone Che potremmo È la relazione Sentimentale di Zizzi Esatto E la cosa più divertente È che Io voglio vedere Con quanto coraggio Tu ha l'amica tua Perché Nel senso Ammettiamolo Flavia Parliamoci chiaro Tu una minima parte di te Lo sapeva Che non era il vero Tom Perché io sono convinto Che questa amica tua Tu l'hai avvertita Un po' tardi Ti piacera Quando arriva la notte Nell'inganno Esatto Ti piaceva vivere Non so se sei veramente tu Tom Nel dubbio Spillami i soldi Questa cosa È andata avanti Sì autoconservazione Secondo me Tu dici Non monetaria Dico proprio Mentale Esatto Il punto è che Questa cosa poi È finita Col fatto che lei Quando gli ha chiesto i soldi Ha detto Forse Tom Non sei veramente tu E oltretutto La cara Flavia Ci consiglia Dopo questo avvenimento Di montare soldi Di fare sempre una videochiamata Per essere sicuri Vedi torno Ma amo Posso dirti Forse noi gay Siamo più avvantaggiati Perché noi Veniamo svezzati A 12 anni Con Grindr Noi già Noi già fingiamo Di essere altri Perché entriamo su Grindr Quando l'età Non è quella che dovremmo avere Flavia Esatto Troppi cereali sotto marca Possiamo noi Flavia Flavia Paravento Delle grandissime Paravento Perché però ti porto questa notizia Perché il 19 giugno scorso C'è la settimana scorsa C'è stato un po' uno sviluppo Perché Flavia Vento Che vi Vi invito a seguire su Twitter Raga Perché lei è impazzita Lei è diventata Chiara Crespi Con Timoteciana me Quando viene a Roma Lei faceva dei video Dove faceva Troverò Tom Si accorgerà di me Lei che ha trovato Una rosa Tipo rossa Sotto al suo balcone E ha fatto una storia Dove si vedeva Tom Cruise Con un mazzo di rose Dicendo Dai Tom Abbiamo capito che So io Cioè che eri tu veramente Amo Lei siamo noi Quando ci vogliono dire Amo ti sta trattando male E noi no No Sei tu che non capiste È venuto a Roma per me Esatto E lui Forse voi non siete un cazzo E perché lui è venuto a Roma È venuto a Roma perché Mission Impossible 7 La prima Esatto Sono state girate Le scene a Roma Sì 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 E c'è questo video Che io vi invito a vedere Con questa luce negli occhi Di lei Più di quella Della tipa del Meno male che Silvio c'è Cioè a questo punto Amo Quel pathos A confronto è finto No È finto Cioè Eh lo dobbiamo accettare Cioè Flavia Vento In questo video Che guarda Tom Cruise Ma raga Ha una luce negli occhi Poverima Amo ti giuro Manco Manco tu Quando hai visto E lo dì Ah Manco tu Quando hai visto E lo dì E quindi Quando vedrò E lo dì La storia di tutto questo è Perché non si può essere Belle matte Ricche Stesso pacchetto Cioè Flavia Vento Se la canta Se la suona E se la gode Quindi Siate Flavia Vento Vivete i vostri complotti A patto che non tocchi Nessuno se non voi Lei è convinta Che Tom Cruise Le va da dietro Cioè che può fare Ma Daniele Questo messaggio positivo Mi piace Mi piace Cioè Lei vive la sua Tom Fantasy Perché io non posso Vive la mia Darren Chris Fantasy Però Quando Darren Chris Fece quella cosa Dove mandò il suo numero Fingendo che fosse il suo E io come un coglione Gli escrissi Darren Un passivore o così E mi arriva un messaggio indietro Che ho scritto Viene il mio spettacolo a Broadway Era una pubblicità Una cosa di marketing Daniele io non la sapevo Sta roba Sì Darren Chris Su Facebook Disse di mettere Il suo numero Io gli escrissi Mi arrivarono un messaggio Ma che cosa divertente Magari era tipo 339 Cioè capito Era palesemente Un suffizio No no Era un suffizio Tipo Appalese In un'altra parte Ma io che ne so Sono ascema Tanto la tele di carica Me la faceva mamma Ma che ne sai Esatto Cazzi suoi Non ti giudicherò Per questa cosa Quindi comunque Nel senso I dei folli Tra quelle di Flavia Vento E quella di Lana Del Rey E concerti e musica Diciamo che La follia La follia Nello spartito Ho io la chiusura speciale Il meme della bambina Di Justin Perché non Napoli Justin perché non viene a Napoli Stai la vita mia Stai la vita Stai la vita Amo sei tu Quando cerchi un concerto Dell'Odia A Shatofi Dark Diciamolo Perché ti chiami Shatofi Dark Perché palesemente La tua neve Il tuo inner sabateur È Sabina Ferilli E se lei C'ha poltroni sovà Tu c'hai Shatofi Dark E chi te lo fai Shato Esatto Daniel Cioè siamo arrivati a ragionare Nello stesso modo Io ti voglio fuori dalla mia vita Fa pao Dalla tua testa Smetti No e quindi Perché Napoli Perché non Napoli Non lo so Non so perché non Napoli Ma Justin Viacci perché sei la mia vita Esatto E soprattutto Quindi Pob oggi vi porta Concerti all'ultimo minuto Complotti Complotti Degli ultimi sei mesi Esatto E fossimo noi Che venimo presi stavolta Dagli alieni Che gli raccontiamo Stai ascoltando Pob Speciale alieni Ti immagini Ci prendono a noi due E ci dicono Dimostrare Fateci capire cos'è Cos'è la terra Stai ascoltando Pob E tu vedi un laser Tipo Lissiando lo spazio Ci vedi proprio Scomposti E ricomposti Comunque Concerti a parte Noi non vi daremo mai All'ultimo secondo Una data di una puntata Che già non sapete Almeno una settimana prima No No Cioè tu stai promettendo Questa cosa Perché noi Tutte le domeniche alle 15 Siamo sempre qui Non abbiamo mai tradito Una puntata No Dani Non capisco Ma dove? Amo su Spotify Ah Amazon Music Ed Apple Podcast Tu che mi hai cambiato Lo so Io vergine Amo Un attacco epilettico Te l'ho già detto Di solito Spotify Lo dico io Oh che poi alla fine Cioè noi sempre lì stiamo eh Sì nel senso Oltretutto TikTok YouTube Che ricordiamo per l'ennesima volta Che a metà luglio Finalmente arriverà Abbiamo una data Che è a metà luglio Che è la data che danni paraculi Abbiamo una data Abbiamo una data Sto weekend Nella data È un frangente di tempo Che puoi procrastinare Dovremmo forse assumere Il manager di Taylor Probabilmente O forse quello di Rana del Rey No no Parese no Ci va in vacanza questo E come sempre Io ho finito la mia autonomia d'aria Vorrei citare il Titanic Sarebbe scortezza No 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 Implodiamo Ciao Ciao